Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPL dove si segnalano code per viabilità esterna che non riceve in uscita alla strassigna provenendo da Firenze. Il traffico invece per il momento scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana. In A1 in direzione Bologna è chiusa per lavori l'entrata di Firenze Sud fino alle 6 di lunedì 30 gennaio. Sempre in A1 per consentire lavori di pavimentazione lunedì 30 e martedì 31 gennaio in orario 9.19 sarà chiuso il tratto tra il bivio con la variante di Valico Baccheraia e Ronco Bilaccio in direzione Bologna. Contestualmente sarà chiusa l'uscita di Ronco Bilaccio provenendo da Roma. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!